Entrata piancata, la mossa è valida, va in testa la Selva, la Torre, la Girappa, l'Aquila, il Bruco, Leocorno, Civetta e andiamo al primo San Martino con Girappa che fa l'andatura di testa, leggero cedimento, segue l'Aquila in seconda posizione, la Torre, la Selva, Leocorno, il Bruco, la Civetta ed ecco il primo Casato con la Girappa che fa sempre andato in testa e c'è un attacco molto forte da parte dell'Aquila, secondo San Martino con Girappa, Aquila, Torre, è caduto il pantino della Torre, è caduto il pantino della Torre e andiamo al Casato con Girappa sempre in testa all'esterno dell'Aquila che cerca di guanare la prima posizione, volata molto forte, hanno battuto il palco, Aquila e Girappa sono le due contrate che vanno al terzo ed ultimo San Martino con Girappa che mantiene la posizione e l'Aquila all'interno ed eccoci all'ultimo Casato, Girappa, Aquila, Leocorno ed ecco la Girappa che gira e vince il Palio e le due l'Uno